Venite con me, vi faccio vedere come si registrano i pezziccioloni Tapping, 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 tapping Non c'è più tempo, è tempo, time Per un istante, l'ultimo L'ho fatta un po' sporca Sì, chiccated Ripeti Ok Sembra, mi sembra acordato Bravi Ma non finisce qui L'inferno avrà il tuo nome Facciamo la dritta, la prima Cioè non fare subito lo special Trico, fai due giri dritti Ok Sto piegando la mia maglia perché non vuole La tua maglia Ok, dai Proviamo insieme Ok, fatto, ciao Sto cercando l'interpretazione Ok Che ne è Non so cosa sto facendo Prima il tuo amico glissalto Amica in tutti i braccio Va bene uno Non so cosa sto facendo Certo 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.